Oggi andiamo a vedere una lezione del 15 febbraio 1963 intitolata Mosè, Elia, Gesù. Nel linguaggio biblico il nome di un uomo rivela il suo carattere. Il suo nome è un'espressione della natura essenziale del portatore. Come ho detto in passato, questi personaggi non sono persone, sono stati eterni, stati spirituali attraverso i quali l'anima immortale passa per risvegliarsi come Dio. Per capire l'argomento di stasera torniamo indietro solo per un momento. Come sapete vi ho detto che la Bibbia è il progetto di Dio, qualcosa che può essere compreso solo attraverso la rivelazione. È rivelata, è vera, ma sembra la cosa più impossibile del mondo, ma si dimostrerà vera a quel tempo. Il libro della Genesi è la trama del seme, l'inizio. È in principio Dio e alla fine in una bara in Egitto. Quello nella bara si chiamava Giuseppe. Giuseppe è l'immaginazione umana. È di un solo tessuto con l'immaginazione divina, ma qui è l'immaginazione umana messa in una bara. Ha ottenuto dai suoi fratelli la promessa che non lasceranno il suo corpo in Egitto. Lo porteranno nella terra promessa da Dio, ai suoi antenati Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa è la fine del libro, la trama del seme della Bibbia. Poi si inizia con lo svolgimento del seme che è stato piantato nel libro della Genesi. Il libro successivo è l'Esodo. È qui che Mosè entra per la prima volta nella Bibbia. Ora ci viene detto che la figlia del faraone trovò Mosè che galleggiava sul fiume e lo chiamò Mosè perché lo tirò fuori dall'acqua. La parola Mosè infatti significa tirare fuori, salvare, prendere. Ma ha anche un altro significato. Lei era egiziana e il ragazzo era cresciuto nelle corti del faraone. La parola Mosè è la radice della parola egiziana nascere. Questo è ciò che significa nascere. Qualcosa ora sta per nascere ed è sepolto nell'uomo nel libro della Genesi. È completamente contenuto in questa arca, in questa bara. O uomo, ma ora deve essere risvegliato, deve nascere. Ci viene detto che non si è offerto volontariamente per il compito. È stato arruolato. Ora mi fermo qui e vi dico. Questo non è un uomo come voi siete, come io sono. Questo è uno stato di coscienza. Tutti questi personaggi sono stati di coscienza. E così Mosè sta recitando la parte ora, guidando voi, guidando me e tutti nel mondo, fuori dallo stato conosciuto come Egitto, portandoci fuori dall'Egitto nella terra promessa. Mosè è vero in questo senso. In lui, in forma germiniale, vi è l'intero futuro di Israele. Tutte le visioni che avete letto su di lui sono contenute in noi. Egli fu profeta, sacerdote, legislatore, ombra del re o prefigurazione del re. Vincitore, esule, fuggiasco, uomo di Dio. Tutto questo è dichiarato nello stato chiamato Mosè. Ora Egli ci conduce fuori. Vediamo cosa ha in comune con gli altri personaggi nominati nell'argomento di stasera. Egli è Gesù. Nessuno conosce il luogo di sepoltura di Mosè. Come ci viene detto nell'ultimo libro dei Cinque, chiamato Deuteronomio, Mosè morì e fu sepolto. Chi lo ha sepolto? Il Signore lo seppellì. E fino a oggi, nessuno in Israele conosce il luogo di sepoltura di Mosè. Ci viene detto di Elia. La parola Elia significa il mio Dio e Eova. Mentre parlava con i suoi discepoli, essi furono separati da questo caro di fuoco e da cavalli di fuoco ed Egli fu sollevato in cielo da un turbine. Perciò nessuno conosce il suo luogo di sepoltura. Perché non fu sepolto, fu trasportato. Ci viene detto di Gesù che quando arrivarono la mattina presto e trovarono la pietra rotolato via, il suo corpo era stato rimosso. E fino a oggi, nessuno sa dove hanno deposto il corpo. Dove hanno deposto il corpo del mio Signore? Così, qui troviamo alla fine tre caratteri che hanno avuto la stessa uscita da questo mondo. Qui c'è una progressione che porta verso Dio. Mosè significa nascere. In ebraico significa tirare fuori. Sì, qualcosa viene tirato fuori. Qualcosa deve nascere. Elia è il mio Dio e Eova. E Gesù è Eova. Salvatore. In linea con la dichiarazione in Isaia, io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Se lo leggete in superficie non vi dirà nulla. Ma noi torniamo indietro per trovare quello che fu la grande rivelazione mentre Israele viene spostato fuori nell'Esodo dall'Egitto. Ci volero quarant'anni. E quarant'anni è il valore numerico della tredicesima lettera dell'alfabeto ebraico il cui simbolo è un grembo. Qualcosa da nascere. Qualcosa che esce dal grembo in cosiddetti quarant'anni. Non significa quarant'anni nel senso in cui voi e io misuriamo il tempo. Ma qualcosa sta uscendo dall'uomo e tutto ciò che sta uscendo è Dio. Passando al secondo stadio è chiamato Elia e fiorendo nella sua pienezza in Cristo Gesù. Mosè è il primo ad avere il nome di Dio rivelatogli. Ci sono molti nomi per Dio ma mai prima era stato rivellato come a Lui. Quello stato e tu sei in esso ora io sono in esso. Il nome rivellato di Dio creatore è io sono. Esodo 3 13,15 Quando andrò dal popolo di Israele e dirò loro che il Dio dei loro padri mi ha mandato il Dio di Abramo, di Esaque e di Giacobbe ed essi mi chiederanno qual è il suo nome? Cosa devo dire? La sua voce rispose io sono quello che sono ti ha mandato. Non era mai stato rivellato prima che quello fosse il nome di Dio. Ci viene detto nel Salmo 9 e quelli che conoscono il tuo nome ripongono la loro fiducia in te. Se conosci il nome tu e io abbiamo sentito il nome ma se lo conosci veramente metterai la tua fiducia nel nome e ti dico che il nome è io sono non è Giovanni non è Gesù non è Dio non è il Signore non è niente al di fuori di io sono. La parola tradotta Signore che è Eova significa io sono. Quando dico io sono il Signore tuo Dio in realtà dovrei dire se vuoi veramente capirlo io sono quello che sono il tuo creatore perché la parola ora tradotta Dio è la parola Elohim la parola usata nel capitolo della Genesi e Dio disse cioè Elohim una parola plurale facciamo l'uomo a nostra immagine. Quando si leggono le parole della frase io sono il Signore tuo Dio la parola io sono è la stessa parola tradotta come Signore quindi io sono quello che sono il Dio che ti ha creato a sua immagine e accanto a me non c'è nessun altro Dio nessun altro creatore nessun altro salvatore questo è ciò che è stato rivellato nello stato conosciuto come Mosè se prendi il nome Mosè se lo giri al contrario si scrive nome Shem la parola comune per nome in ebraico è Shem se tolgo la lettera centrale di Mosè che è un Shin e la metto per prima delle tre piccole lettere Shin quindi qui il nome significa tanto invoco ogni cosa nata e rinata per portare dentro di me tutte le cose che devono nascere e lo faccio nel suo nome lo sto tirando fuori da me stesso quello è Gesù Mosè capovolgo il nome lo faccio nel suo nome Shem e da dove lo attingo? Shin men he dal cielo e dove è il cielo? il cielo è dentro di voi dal mio stesso essere io attingo tutto ma lo attingo nel suo nome non c'è nessun altro nome sotto il sole con cui questo venga fatto e allora come faccio a disegnare qualcosa? lo disegno solo nel suo nome ci viene detto che disegna tutto ma non può entrare nel regno dei cieli la terra promessa chiamata Canaan colui che porterà gli israeliti dentro è Giosuè la parola Giosuè è la stessa parola di Gesù scritta allo stesso modo lui non può entrare è solo la potenza che lo tira fuori lo fa Gesù il cui nome è Giosuè prima di raggiungere quello stato chiamato Giosuè che è Gesù si passa attraverso lo stato di Elia la parola Elia significa il mio nome è Geova se dico che il mio Dio è Geova penso in termini di qualche signore esterno se dico il mio Dio e io sono allora potreste pensare che sono arrogante che sono blasfemo eppure questo è esattamente ciò che la parola significa la sua storia ci viene raccontata nel libro dei re nel libro dei re non c'è altro che pura e semplice potenza quando un uomo la sente e sa cosa può fare non temperato dall'amore fa tutto questo è ciò che fece Elia ha fatto scendere il fuoco e ha distrutto il toro sacrificale riducendolo in cenere distrusse i bambini che lo criticavano e poi i 450 profeti di Baal che non potevano far scendere alcun fuoco lo fece in un batter d'occhio ordinò la distruzione di tutti i profeti di Baal violenza all'estremo poi passiamo da questo stato al Giosuè che è Gesù dove la stessa potenza infinita è temperata nell'amore lasciate che vi dia la mia esperienza personale riguarda questi stati questi stati sono personificati come uomini 30 anni fa fui portato in spirito in un consiglio divino una società divina e il primo che mi incontrò fu l'incarnazione della potenza infinita era seduto e il simbolismo è perfetto in un caro e attaccato a questo caro c'è questa copia perfettamente meravigliosa di cavalli splendidamente bardati e seduti nel caro c'è la potenza infinita con occhi d'acciaio non un'ennesima parte di amore veniva da quel viso al mio mentre lui pensava io sentivo quello che pensava mi guardò occhi negli occhi ma nessuna emozione di sentimento riguardante l'amore o la pietà o la tenerezza venne da dal suo occhio al mio solo pura forza pura potenza nessun potere sulla terra può essere paragonato all'incarnazione di col potere quando salì sul suo caro di fuoco senza lasciare tracce sembra un'affermazione così stupida da fare che nessuna cosa sulla terra potrebbe indurre a credere che possa essere letteralmente vera eppure la mia esperienza mistica conferma la verità di questa affermazione perché c'è la perfetta incarnazione del caro e dei cavalli splendidamente imbrigliati e l'aurica è lì a stesso la potenza è infinita il cavallo è sempre il simbolo della mente in questo caso la mente è imbrigliata disciplinata e diretta dalla origa colui che ha il controllo di quella mente disciplinata ma nessun sentimento nessuna emozione d'amore poi fui portato alla presenza dell'amore infinito della misericordia infinita e qui mi trovai alla presenza di Cristo Gesù uno stato sì uno stato vivente e parlai e comunicai con lui e lì mi chiese qual è la cosa più grande del mondo e io risposi con le parole di Paolo fede, speranza e amore queste tre rimangono ma la più grande di esse è l'amore in quel momento mi ha abbracciato e sono diventato uno con l'amore infinito non ho mai conosciuto una tale gioia nella mia vita non ho mai conosciuto una tale pace e misericordia una tale cosa riguarda a questi attributi mentre in questo abbraccio venne questa voce dallo spazio mi trovai ancora una volta alla presenza di una potenza infinita Elia un altro nome per lui nella Bibbia è Elias Dio onnipotente non c'è ancora pietà lì non c'è amore solo pura potenza ed è stato lui che mi ha rimandato dove sono oggi con il comando è ora di agire tutto questo è stato fatto nello stato di Mosè quello stato in cui sono entrato non volontariamente sono stato arruolato come sono stato arruolato nell'esercito di Dio senza il mio permesso il mio consenso per uno scopo condurmi fuori dall'Egitto nella terra promessa ma devo passare attraverso questi stati tutti passano attraverso questi stati quindi Mosè è il mediatore lo stato di tutte le cose che gli succedono e lui a sua volta può condividere con coloro per i quali è successo e così è successo a me questo stato di Mosè allora io a mia volta mi preparo a condividere con voi le cose che mi sono accadute perché sono accadute a causa vostra per dirvi che è tutto vero tu dici una piccola manciata come questa e tre miliardi di noi nel mondo non importa se uno solo venisse ad ascoltare la parola di Dio e la verità di quella parola sarebbe infinitamente più grande dei tre miliardi che non ne hanno sentito parlare perché noi entriamo nel regno di Dio uno per uno non entriamo in coppia non posso portare con me in quello stato l'anima più cara di questo mondo dobbiamo andare da soli singolarmente siamo conosciuti singolarmente amati singolarmente e due non possono andare insieme quindi non importa se parlo a cento o a uno o se parlo attraverso la radio a due milioni di persone non fa differenza ci credono la storia è racconta la storia come l'hai vissuta nella speranza sì che ci crederanno ma nessuno ha la certezza che sarà creduto ma solo come viene creduto e accettato dall'individuo si inizia il viaggio fuori dall'Egitto l'Egitto non è nel vicino oriente voi siete l'Egitto Giuseppe che è la vostra meravigliosa immaginazione umana e sepolto in Egitto e lì contiene in sé tutto il vasto mondo e ora deve essere portato fuori e condotto fuori dalla vostra rivellazione dal vero nome di Dio nei 50 capitoli della Genesi la parola non è rivellata non è usata e poi arriva la rivellazione del terzo e sesto capitolo dell'Esodo vai di loro che io sono ti ha mandato per tutto il libro quando si legge questa strana traduzione io sono il Signore è semplicemente io sono io sono perché prendere il secondo io sono e poi chiamarlo Signore la persona la persona media che lo legge non può capirlo bene ma le identiche parole iniziano la frase io sono io sono che è la parola che arriva solo come due parole rimosse il Signore io sono gli io sono e il tuo Dio e oltre agli io sono non c'è nessun Dio io sono il vostro creatore quindi voi siete veramente autogenerati nel vero senso della parola dunque questi sono tre stati fantastici attraverso i quali l'uomo si muove e verrà il giorno in cui anche voi sarete portati da un turbine in cielo e sarete portati alla presenza di uno stato ma per voi è qualcosa di completamente indipendente dalla vostra percezione di esso quando lo guardate è una potenza voglio dire una potenza al di là del più selvaggio sogno dell'uomo ed è l'uomo potrei dipingere un quadro per voi potrei disegnare riesco a vederlo così chiaramente ed è successo una trentina d'anni fa più vividamente di qualsiasi cosa mi sia successa oggi è così indelebilmente impresso nella mia mente eppure uno stato chiamato Elia e si passa attraverso quello stato dove non è altro che pura potenza lo vedi nel mondo di oggi potrebbe essere il potere economico dove non c'è nessun sentimento se non quello di ottenere semplicemente un nuovo potere potrebbe essere un potere militare sociale intellettuale o qualsiasi altro tipo di potere senza sentimento o compassione solo pura forza lo vediamo descrivere il mondo nel giornale del mattino non c'è un bollettino alla radio o alla televisione che non descriva questa pura potenza se posso avere la meglio su quello o su quelle nazioni quello è Elia leggete questa storia nel libro dei re dove si passa da questo a Dio stesso e questo è Cristo Gesù quando sei in sua presenza ancora una volta non è altro che te Egli comunica con voi vi fa delle domande e voi rispondete alla domanda e vi abbraccia e tutto sembra così bello eppure vi viene detto in Zaccaria 14.7 il suo nome è uno lui sembra essere un altro ti abbraccia ma in quel momento dell'abbraccio voi diventate uno è il Signore io sono è uno e il suo nome è uno allora ti ritrovi fuso con Dio stesso e non ci sono due di te non tu è Dio tu sei l'essere stesso che hai cercato tu sei Lui e poi arriva la sentenza di richiamare tutti i mezzi per essere inviati perché sei chiamato e poi inviato a rivellare tutto quello che ti è successo nella speranza che chi lo ascolti lo accetti ci viene detto che molti lo rifiuteranno e molti lo accetteranno questo è il modo in cui è tutto individuato alla fine tutti lo accetteranno è una forma di preparazione che porta verso il compimento del suo scopo che è quello di darsi a noi perché è lo scopo di Dio di darsi a voi individualmente come se non ci fossero altri nel mondo solo Dio e voi e poiché Dio è uno e il suo nome è uno non ci può essere Dio e voi perché tu stai alla sua presenza mentre risponde alle domande qual è la cosa più grande del mondo e tu rispondi l'amore allora sei abbracciato dall'amore stesso e non sei tu è l'amore sei l'amore sei l'incarnazione dell'amore e non hai mai provato una tale misericordia una tale compassione un tale amore sei uno con esso ma non ci sono due di te tu sei Dio e mentre sei proprio nello stato incarnato dell'amore infinito sei mandato a fare quello che farai proprio in questo mondo perché tutti devono essere condotti fuori dall'Egitto porta il mio popolo fuori dall'Egitto anche se indurrò il cuore del faraone e lo terrò in Egitto ti dirò comunque di portarlo fuori dall'Egitto se il cuore è indurito a causa di ciò che abbiamo da dire perché in questo pubblico siamo cristiani ed ebrei senza dubbio tutti noi ci può essere uno che non si definisce cristiano o ebreo che pensa che io non sono nessuno dei due che sono un agnostico o sono un ateo o forse sono di qualche altro credo ma direi che nel complesso quando vado in giro per il paese parlo con centinaia di cristiani ed ebrei la parola Mosè per l'ebreo è un nome sacro colui che era un leader scelto da Dio per condurre il suo popolo eletto fuori dall'Egitto nella terra promessa ed Elia il grande profeta per il cristiano quale nome più sacro del nome di Cristo Gesù vi dico che questi sono stati infiniti stati eterni attraverso i quali l'anima immortale passa e alla fine si risveglia e si ritrova di fronte a Dio stesso l'antico dei giorni allora saprete su un monte della trasfigurazione questi furono i tre che apparvero c'erano Mosè Elia e Gesù essi risplendevano tutti fino a che i loro volti erano come il sole questo è vero ci viene detto che quando Mosè scese dal monte tutti ebbero paura perché brillavano tanto e si coprì con un velo per poter parlare alla gente il velo è il corpo umano questa veste è il velo per parlare all'uomo perché se lo vedevi senza veli non potevi sopportare la luce ma quando è andato alla presenza di Dio si è tolto il velo ed è uno con lui scende e prima che metta il velo c'è una luce che abbaglia all'occhio dell'uomo mortale posso dirvi che ci crediate o no la mattina che mi è successo per la prima volta ero solo nella mia stanza sulla 49esima strada a New York erano le 4 del mattino non c'era il chiaro di luna non c'era motivo di luce nella mia stanza nessuna luce era accesa ma c'era questa luce ultraterena che riempiva la stanza e non si placava fino a quando non è uscito il sole la stanza era completamente raggiante di luce ma nessuno poteva vederla tranne me quindi vi dico che questo simbolismo è vero ed è tutto su di voi tutto nel libro riguarda voi come ci viene detto nel salmo 40 nel volume del libro alcuni lo traducono nel volume su di me tutto il libro parla di te e questi fantastici personaggi sono gli eterni stati spirituali attraverso i quali ti muovi tutto è piantato in voi e registrato in quel primo libro della Genesi poi arriva l'inizio dell'esodo dove l'uomo sta facendo la sua uscita dal mondo della schiavitù il mondo dell'Egitto e non è nel vicino oriente questo dove vado questo il corpo è il mondo dell'Egitto e io mi tiro fuori e ci sono una serie di segni che accompagnano la mia uscita dall'Egitto uno dei segni di cui vi si parla è avvenuto solo in relazione all'uscita di Israele dall'Egitto ed è il serpente Mosè innalzò il serpente per mostrarvelo e nessuno lo capì nessuno oggi quante persone capiscono il simbolismo è vero è registrato poi in Giovanni 3 come Mosè innalzò il serpente nel deserto così deve essere innalzato il figlio dell'uomo vi troverete un giorno a sperimentare realmente lo stato di essere innalzati in forma serpentina innalzati in cielo seguono dei segni come ci viene detto nel libro del Deuteronomio e Geova liberò il suo popolo dell'Egitto con segni e prodigi sempre segni e prodigi tutto era un segno ma come interpretare il segno aspettate tutti questi segni accadranno alla natività l'angelo ha dato un segno attraverso i pastori e la gente ha completamente frainteso il segno e pensa che sia l'evento quello è solo il segno che è la liberazione di un individuo in cielo della terra ad Egitto Simeone entra nel tempio e guarda il bambino e dice loro questo è un segno di cui si parla ora in questo pubblico negli ultimi tre mesi non direi che ce ne sono stati molti ma ho sentito personalmente attraverso la vita quelli che hanno parlato contro il segno alcuni per non tornare mai più quindi questo è un segno contro cui si parlerà quanto è vera la profezia ci sono persone che vengono a casa mia ceniamo insieme ma non si vedranno qui e quando siamo insieme non parliamo mai del segno e così Simeone entra nel tempio e vede il bambino e fa la profezia questo è un segno di cui si parlerà voi non avete parlato finora contro di esso ma io conosco decine di persone che hanno parlato contro di esso al punto di non essere più tornati in questo auditorium ci dà segni e prodigi mentre ci porta fuori dall'Egitto è la storia di Cristo Gesù e ogni evento è soltanto un segno non si svolge nulla su questo piano tutto ciò che è registrato a riguardo della sua nascita fino alla fine è un segno e tutto sta per avere luogo in voi la nascita il miracolo le cose fantastiche sì e anche la trasfigurazione e quando avverà anche tu giurerai di mantenere il segreto su coloro che erano presenti eppure la cosa è così fantastica che non hai nemmeno bisogno di fargli giurare ma lo fai automaticamente come Pietro Giacomo e Giovanni che non stavano dormendo ma erano assonnati e ti guardano e non possono credere alla meraviglia di tutto questo quando tornano qui a questo livello non ricordano o se ricordano ricordano solo vagamente Pietro era pieno di sonno eppure si teneva sveglio ma era assonato così non poteva vedere la gloria che era stata data in quel momento a colui che si chiamava Gesù perché alla fine quando tutto svanì c'era solo Gesù questi stati rimangono indietro perché tutti li possono attraversare colui che è lasciato alla fine è Cristo Gesù alla fine non c'è altro che Gesù e Gesù significa Geova salvato lui è un salvatore e ti salva perché tu sei lui tu sei autogenerato alla fine viene fuori uno con l'essere che si è generato come te questi sono gli stati attraverso i quali sei tu il te immortale devi passare per risvegliarti come Dio e non c'è altro che Dio Mosè è inviato non è volontario viene arruolato e diventa uno con lo stato e si porta fuori dalla confusione dello stato d'Egitto nell'armonia nella pace e nella gloria che è Dio deve passare lo stato di Elia pura forza e potenza e attraverso questo passa a quello di Gesù così alla fine tutti sono Gesù ognuno sarà simile a Cristo senza perdere la sua definita individualità io conoscerò voi e voi conoscerete me e tuttavia voi sarete trasformati e io sarò trasformato non posso descrivere ciò che ho visto e non posso trovare le parole per descrivere ciò che ho rivellato e ho giurato di mantenere il segreto ma sono abbastanza sicuro che era era in uno stato di semisonno e non voleva o non poteva ricordare tutti sono destinati a questo potreste prenderla alla leggera e pensare beh che sciocchezza perché tutto il vasto mondo nell'insegnare questa storia per due mila anni non vede il mistero è tutto un mistero mi è stato chiesto da questo auditorio è giusto raccontarlo certamente è giusto raccontarlo non si può trattenere ma è qualcosa di difficile da descrivere perché ha un carattere misterioso non è una cosa da nascondere al mondo perché voi siete destinati a essere Cristo Gesù ma non perderete coscienza della vostra eredità celeste finché indosserete ancora questa veste che è un velo ma tu continuerai a fare il lavoro e a raccontare la tua storia a tutti coloro che ascolteranno così Mosè inizia il grande esodo è davvero l'inizio della nascita di Israele e lì non solo raggiunge la nascita in lui nasce lo stato chiamato Israele poi viene tirato fuori verso il fiore che è Cristo Gesù ma passa attraverso quello stato potente Elia poi passa oltre lui portato dal vento alla presenza dell'antico dei giorni poi arriva la cosa più gloriosa del mondo l'amore tutti gli stati concessi li incontrerete e li incontrerete in questa santa assemblea e ognuno sarà identificato e sono tutti segnati nella storia della scrittura quindi vi dico questi non sono personaggi i nomi significano gli stati eterni attraverso i quali voi e io passiamo tutti sono destinati a incontrare la stessa fine e la fine è Dio tutti ci risvegliamo come Dio quindi facciamo l'uomo a nostra immagine è vero e questo è Elohim ma il nome non è veramente rivelato finché non inizia il viaggio se credete al nome leggete il salmo 9 e quelli che conoscono il suo nome ripongono la loro fiducia in te perché tu o Signore non hai abbandonato coloro che ti cercano non dovrebbe essere o Signore perché di nuovo si esce dal ritmo la parola o Signore è Yod He Vau He si sta rivolgendo a se stesso e abbiamo trovato il nome io sono e il tuo nome io sono perché io sono non mi abbandonerebbe questo è davvero ciò che significa leggete attentamente credete al nome che vi ho detto questa notte questo è il nome di Dio se ci credete davvero metterete la vostra fiducia in Lui se uscite da qui stasera sperando che qualcosa di diverso da il nome vi attiri fuori dalla malattia o dalla povertà o dall'essere sconosciuto o da qualsiasi cosa nel mondo non avete messo la vostra fiducia in Lui se davvero li credete riponete la vostra fiducia nel suo nome e confidando nel suo nome vi muoverete dall'Egitto verso la terra che è stata promessa perché voi salite in una terra completamente soggetta al vostro potere immaginativo ogni uomo ha bisogno di uno stato che lo esprima Mosè è uno stato Elia è uno stato ma non può esprimere se stesso ha bisogno di un agente e la gente è sempre l'uomo così l'uomo il pellegrino si muove in uno stato e poi lo stato si anima e se lo vedete è personificato e l'uomo perché lo occupa l'uomo è la potenza operante dove non c'è l'uomo la natura è sterile non c'è uno stato oltre questo drama che è Gesù Cristo Dio ha parlato anticamente in molti e diversi modi ai nostri padri per mezzo dei profeti ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del suo figlio che ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche creato il mondo ora entriamo nel silenzio e io mi fermo qui vi aspetto domani ciao a tutti grazie grazie